Ragazzi, buongiorno a tutti, buon sabato. Fa molto freddo ragazzi, mamma mia, neve dappertutto. E' un freddo, non lo so voi, ma io questo freddo non l'ho mai visto, guardate. C'è proprio... è micidiale. Va bene ragazzi, questo è 10.85 minuti, la mia previsione, ambo principale 13.31, abbinamenti 76.67, 22.16. Buona fortuna a tutti, copritevi, mi raccomando, che fa freddissimo, c'è anche il rischio caduto con questo tempo. Va bene ragazzi, buona giornata a tutti e ci vediamo più tardi. Bacioni.